Welcome to MiroTV! Ragazzi, partiamo subito con il botto, perché domani sera ci sarà la live reaction di All Elite Wrestling Dynamite Una puntata incredibile, importantissima, main event, probabilmente il più importante dell'anno per quanto riguarda la All Elite Con Kenny Omega che proverà a togliere il titolo a John Moxley, l'ex Dean Ambrose della WWE Non mancate domani sera, ci divertiremo tantissimo, ovviamente anche in compagnia di Peonia Ora però sto qui per parlarvi dell'ultima puntata di Monday Night Raw Partiamo subito, non voglio perdermi troppo in chiacchiere C'è un opener pazzesco questa settimana, a me c'è stato un opener pazzesco questa settimana Con Randy Orton, Alexa Bliss e The Fiend Parto con il dire che, ho letto pochi anzi, un commento di Vince Russo dove secondo lui il segmento di questa notte tra Randy Orton e Alexa Bliss e The Fiend Sia stato tutto quanto sbagliato Va bene Vince Russo, c'è ragione tu, ma assolutamente proprio Ma perché non hai capito bene il segmento? Perché quello che tu mi sei andato a dire, hai detto È tutto quanto sbagliato, Alexa non aveva paura di Randy Orton, era quasi compiaciuta di stare nelle braccia della vipera The Fiend non ha dimostrato di essere pazzo Ma perché invece non mi hai parlato di quello che ha fatto Randy Orton? Randy Orton anche in questo segmento, non voglio manco riassumerlo ragazzi Perché sono parecchio incazzato con Vince Russo No, con il segmento che a me è piaciuto davvero tanto Perché secondo me Vince Russo non ha capito bene quello che doveva succedere in questo particolare momento C'è Randy Orton che è andato a dire durante il segmento di conoscere O meglio ce l'ha fatto capire, questo è poco ma sicuro La debolezza di The Fiend Conosceva le varie debolezze di Bray Wyatt Ora ci ha fatto capire di conoscere anche le debolezze del maligno Che quindi abbiamo capito essere Alexa Bliss C'è Randy Orton che l'ha colta lì tra le sue braccia di fronte agli occhi di The Fiend Che quasi lo ha supplicato di passargli poi il corpo di Alexa Randy lo ha fatto per poi scappare via Ecco perché io vi ho detto Vince ma non ti sei accorto di questo Ovviamente Vince Russo non Vince McMahon Randy Orton ha urlato di fronte alla telecamera E ora chi è che scappa Questo è riferimento a quello che è successo settimana scorsa Ma anche il classico The Fiend Che fa il tocco e fuggi quando fa gli attacchi ai suoi avversari Per lo meno la maggior parte dei casi è sempre così Un tocco e fuggi che stavolta è stato fatto da Randy Orton Il messaggio grande della vita era proprio questo Stavolta sono io ad avere l'ultima parola Sono io quello che fugge Quasi senza nessun graffio Anzi ti ho fatto io del male Perché ho capito la tua debolezza E stavolta me ne fuggo Più compiaciuto che mai Ora ho la situazione io in mano A me è piaciuto molto questo segmento Tra Randy Orton e The Fiend Non so perché Vince Russo Se si è uscito tutto con quelle cose Probabilmente ok Che lui c'ha un sacco di roba Con la tabula blu C'ha ancora tanti rimorsi Quello che vi pare Però Vince Russo Questo secondo me è stato un segmento pazzesco Per aprire una puntata di Raw Che poi su certe linee a me è piaciuta Su altre no Però diciamoci a vita Come opener penso che sia difficilmente così criticabile Ma vediamo un po' che succede la settimana prossima Na Randy Orton e The Fiend Se il loro incontro sarà a T.O.C Che ormai si avvicina sempre di più Però vi devo dire Questo per me è stato un opener pazzesco Incredibile Passiamo oltre E parliamo del primo match della serata Che è stato il Symphony of Destruction Tra Elias e Jeff Hardy Prima di passare sul finale Che ha fatto tanto parlare del Brexit Web Per quello che è successo a Jeff Hardy Che grazie a non so chi Io ringrazio l'atto Diciamo questo Sta bene Jeff Hardy sta bene Questa è la cosa più importante Ma devo dire qualcosa A quanto riguarda la contesa Che secondo me è stata la migliore Di quella che ci hanno offerto A meno tra Jeff Hardy e Elias La migliore dei tre Se non sbaglio hanno fatto tre match Jeff Hardy e Elias negli ultimi tempi E devo dire che mi ha anche intrattenuto Io pensavo che Jeff Hardy e Elias Potessero giovare del fatto Che questo era un non disqualification match No che non c'era un cazzo in niente Si dovevano menare con gli strumenti E questa cosa a volte aiuta I due atleti che non hanno Chissà quale alchimia Uno contro l'altro Però con l'utilizzo degli strumenti E il Symphony of the Extraction Ragazzi Secondo me è un'ottima stipulazione Quando c'è Elias Già se non sbaglio Due anni fa Lo vedemmo contro Braun Strowman Eppure quello Sinceramente Non è che mi fosse dispiaciuto Più di tanto Quindi vi dico Il Symphony of the Extraction L'ho promosso davvero tanto Perché è stata la miglior contesa A Jeff Hardy e Elias In questa loro verità Un pochino travagliata Non so se debba davvero continuare Perché ormai Jeff Hardy ha vinto Il match più importante Anche con una situazione speciale Quindi dubbio Che si continui a fare questa cosa Ormai questa storyline Però Come l'ha vinta Jeff Hardy Sta storyline Almeno secondo me L'ha vinta Con una Swanton Bomb Molto rischiosa Una Swanton Bomb Che ha visto Jeff Hardy Distruggere Elias Fuori dal quadrato Una Swanton Bomb Che però Giunta verso il finale Ha visto La nuca Di Jeff Hardy Sbattere contro La scala Chi dice anche Spicolo della scala Insomma Una Swanton Bomb Molto rischiosa Assurdo ragazzi Io continuo a dire Che gli Hardiz Per cercare Di stupire Sempre di più Fanno di spot Tremendi Jeff Hardy Questo non lo fa Dal 2020 Jeff Hardy Lo fa da 20 anni Matardi pure L'abbiamo visto Anche quello che Combinarono l'Elite Per prendersi Un sacco di critiche Un bump Glamoroso Sbattuto la testa Contro il cemento Armato Matardi Mentre qui Jeff Hardy Secondo me Fa leggermente Leggermente meglio Tra virgolette Perché lui va a sbattere Contro lo spicolo Della scala Insomma Stiamo parlando Di spot davvero Glamorosi Che si potrebbero evitare Però devo dire questo Quando Matardi Ha fatto quella roba Si è beccato Un sacco di critiche Quando Jeff Hardy Fa questo C'è invece Il fatto E vabbè Però è stato fortunato Meno male Vediamo un po' Come sta Jeff Hardy Eppure lui Si è preso delle critiche Insomma Gli Hardy Boys Stanno sempre Stanno sempre al centro Delle critiche Secondo me Questo è anche giusto Perché a volte Propongono Della roba Davvero Assurda Che può essere Sì Positiva Ma la maggior parte Delle volte Anche negativa Perché sono molto Fortunati Diciamoci la verità Sono molto fortunati Io voglio bene A tutti e due Soprattutto voglio bene A Jeff Hardy Io voglio un sacco De bene a Matardi Io voglio un sacco De bene a Jeff Hardy Per me è un lottatore Incredibile Nonostante gli ultimi due anni Non è che mi stia piacendo Tantissimo la sua gestione Devo dire che ho provato Un po' di paura Io mi auguro Che si inizi a evitare Un po' questa roba Per gli Hardiz Soprattutto Perché quando c'è da fare Le roba strane Loro sono quelli Sempre pronti A farla E sono sempre Più rischiosi Io mi auguro Che si provi a fare altro Perché un personaggio Come Hardy Jeff Hardy Per me può andare Ancora tantissimo Continua a dire Che dovrebbe essere Il Continua a dire Che potrebbero La gistola Migliore anche da Face Ma non fategli Fa' ste cose Non gliele fate Fa' che è rischioso Ragazzi Davvero rischioso Qua Mi ha battuto Elias Va bene così Ma è un match Contro Elias Una rivalità Abbastanza riempitore Non so se si doveva Fare forza Sto bump Clamoroso Non penso manco Che non se lo siano studiato Una cosa del genere Perché è stato uno spot Davvero pazzesco E poi Diciamoci la idea Il loro match È stato anche bello Rispetto agli altri due Che ci hanno proposto In questi In questi settimani Se non in questi mesi Devo dire Questo è stato bello Però insomma Il pericolo finale Un po' Mi ha tenuto un po' d'ansia Passiamo oltre Parliamo di Slapjack Contro Ricochet C'erano stati Una serie di segmenti Prima Non so qua Di iniziali Di tutti quanti Se no se parlo pure Di segmenti Di tutti quanti Di segmenti Di Raw Sto video Rischia di durare 50 minuti Però ecco C'era Ali Che ha promato Per Slapjack Anche se quest'ultimo Pure si è messo A parlare Di quanto lui Sia devoto A Mostafari Per averlo accorto Nella retribuzione E ha detto Sì Slapjack ha detto Che Ali Ha visto un qualcosa Di importante Lui Lo ringrazierà Sempre per questo Slapjack Fa una contesa Contro Ricochet E le immagini Questa settimana Ci hanno mostrato Ricochet Che settimana scorsa Ha battuto Jeffardi A Menevent E pure qua Vi confermo Quello che vi ho detto Nel video Di settimana scorsa A cosa serve Menevent Perché Uno che mi batte Jeffardi E la settimana dopo Mi perde Contro Slapjack Ok Che la retribuzione Va rilanciata Ma a cosa serve Sta roba Perché pure la retribuzione Non è che durante La puntata di Raw L'hai rilanciata Assolutamente proprio Perché hai visto pure Che poco più tardi Hanno escluso Mia Yim Dalla stable Con quel segmento Insomma Perché Ricochet Mi deve perdere Contro Slapjack Manco a dire Che fosse nuovamente Mustapha Lee Oppure Di Bar Slapjack Che è stato forse Quello più inutile Forse più utile Addirittura a Mace Che con le sue espressioni Insomma un po' Ti cura un pochino Di paura Rispetto alle espressioni Di Slapjack Che pure Mingherlino Insomma Non è che ti possa Fattare tantissima paura È bravo Perché per me Scintorno È bravo Ma insomma Vabbè E quindi Come è andato a vincere Questo Questo Slapjack Ricochet In un primo momento Durante la contesa Ci aveva fatto capire Di poter tenere La situazione sotto controllo Nonostante Slapjack A bordo ring Si ritrovasse Con tutta quanta Le trebucce Che a un certo punto Non c'era più Soltanto da lì A supportare Slapjack Sono arrivati anche Mace Soltanto di Slapjack E Ricochet Ci ha dimostrato Di poter mettere Tutti quanti K.O Ricochet Da solo Riesce a mettere Per terra Mace Soltanto di Slapjack Lo fa anche All'interno del ring Con Slapjack Arriva a un certo punto Dove Mustafa Lee Prova a metterci Del suo Ma ecco lì Viene schiaffeggiato Da Dana Brooke Si Arriva Dana Brooke Schiaffeggia Mustafa Lee Per quello che è successo Ovviamente Prima Di Super Series Dove Dana Brooke È stata attaccata Da A Yim Con la maschera E quindi Ci sta anche Il suo segmento Con Dana Brooke Che ha provato A aiutare Ricochet Che non è riuscito A vincere il match Non so come Dana Brooke Ha dato quello schiaffo A Mustafa Lee Che dopo 30 secondi È riuscito ad aiutare Il componente Di la sua stable E Slapjack È riuscito a fare una finish Era Ricochet 1, 2, 3 Slapjack Batte Ricochet Si in maniera sporca Ma l'ha battuto Io non capisco però A cosa sia servito Lo schiaffo Di Dana Brooke A Mustafa Lee Se dopo 30 secondi Poi Mustafa Lee È stato decisivo Per Per Slapjack Ricochet Non ha saputo Approfittare Per niente Del momento Non lo so Sarà che A me è roto ancora Per questo fatto Che Ricochet Non sia manco Considerato Un milk card A dirò A me sta cosa Mi fa davvero male Quindi Forse Sarò anche di parte No Può essere pure Che hanno fatto Una grande cosa A far vedere Una Brooke Che schiaffeggia A Mustafa Lee E a Mustafa Lee Nonostante questo Dopo 30 secondi È risultato decisivo Per Slapjack Però non ho capito Bene tutto quanto Io Questa è la mia considerazione Per me Ricochet Potrebbe abattere Tranquillamente Slapjack Invece Hanno preferito Dalla vittoria A Codesto tipo Passiamo Passiamo avanti Ragazzi Non mi voglio soffermare Più di tanto Manco con Un segmento Come il Miss TV Che ha avuto Come ospite Il grandissimo Shimus Shimus Che è tornato ad attare Un po' da face Io penso più Che Shimus Sia un tweener Dubito che possa essere Un face puro Perché ancora Gli manca qualcosa Del vecchio Quello c'è Altico Il Almeno questa La mia Opinione Personale O milione Personale Ovviamente Ci mancherebbe Però Diciamo che Il Miss TV È stato Come al solito Godibile Con The Miss Che ha provato In tutti i modi A far Dire qualcosa A Shimus Contro Drew McIntyre Il suo grandissimo Amico È andato anche a dire Che l'obiettivo comune Di tutti i due Atleti Ovviamente Ci mancherebbe Alto È il titolo WWE Nonostante questo Shimus Non spreca mai Chissà quale parole Contro Lo scozzese Il suo grandissimo Amico Bensì Fa capire Di avercela un po' Con The Miss Che calca troppo la mano Sul voler mettere Contro Shimus Contro Drew McIntyre E poi Lì Ragazzi Shimus Viene pestato Da The Miss E John Morrison In un Miss TV Che è servito Forse più che altro A farci credere Che Shimus Possa essere Poteva Anzi Potesse essere Potesse essere Arrabbiato Con Drew McIntyre Che non è arrivato A salvare Shimus Però poco dopo Sti due Si Drew E Shimus Fanno un segmento Nel backstage Dove mettono Una pezza A questa cosa Con Drew Che va a spiegare Perché non si è intervenuto E quindi Diciamo che è stato Un Miss TV Utile Per il Manevent È stato un Miss TV Utile Per il Manevent Non tanto Per la questione Shimus Utile Per quello Che siamo andati A vedere Poi nel Manevent Ci arriveremo Più tardi Su questo È stato un buon Miss TV Allora Passiamo No 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 Tactic Match Asuka E Lana Hanno battuto Naya Jax E Shana Basler Io mi sono messo Un po' Paura Ragazzi Quando ho letto Questa cosa Qui Io non mi volevo Manco parlare Non mi volevo Manco parlare Di tutto questo Sono sincero Ragazzi Non sto manco Facendo chissà Quale recitazione No Ho paura Nel potermi Esprimere male Su come io Stia guardando La situazione Femminile Di Raw Perché qualunque Cosa io Vi andrò a dire È Troppo poco Io qua Ragazzi Ci sono settimane Che mi ritrovo A commentare Una gestione Secondo me Molto discuribile Di tutta quanta La Women's Division Di Monday Night Raw Non mi piace Per niente Nulla Nulla di quello Che mi stanno Mettendo Davanti Da tre mesi Se non quattro mesi Da questa parte Da quando è finita La storia di Sasha E Bailey E Aska Per dirvi la verità Da quel momento Non mi è piaciuto più nulla Perché Trovo tutto quanto Troppo imbarazzante Per tutte le atlete Io Sono settimane Che continuo a dire Che Lana Sta facendo qualcosa Che è troppo più grande Di lei Ma non perché Non sia brava Perché Ne manca proprio Qualcosa A lei Ma non è manco Colpa sua Perché la compagnia Non è che abbia Costruito mai Lana Assolutamente Proprio Ora qua Le fanno Vincere Nuovamente Un Tactic match In coppia Con Aska Andando a farle schienare Shana Basler Ragazzi Lana Alla fine di tutto Ha schienato Shana Basler E per me Sta frase Non può esistere Non può Ok è stata aiutata Da Aska Ma non è che Aska Abbia fatto chissà Quale manovra Per distruggere Una come Shana Basler E addirittura Mi sono ritrovato a vedere Che dopo 20 secondi Shana Era in piedi Era in piedi Per andare A vendicarsi Su Lana E Aska Che erano scappate via Dopo sta grandissima vittoria Io sono rimasto Molto allibito Io non vi voglio parlare Manco del bocce Clamoroso Che ho visto Durante il match Tra Naya Jax Tanto lo trovate Nelle mie storie Lo trovate Nelle mie storie Ve l'ho commentato Lì Ma ve l'ho detto Non ce l'ho Soltanto con Lana Naya Jax Questa e qua Io ce l'ho con tutta quanta La situazione femminile Che poi secondo me Naya Jax Le stiano mettendo Un peso troppo enorme Sopra Per le sue abilità Le stanno dando troppo spazio Che per me non merita Ci ho messo sempre la faccia Ve lo continuo a dire Per me Naya Jax Non si merita Non si merita Di ricoppia Io non capisco Perché ci sta rimettendo Shana Basler In tutto questo Arriverà forse un momento Che Che Lana Riuscirà a vendicarsi Anche su Naya Jax Ma io ho paura Che questi Stiano continuando a pensare Che a TLC Come vi ho detto La settimana scorsa Ci sia la possibilità Di mettere in scena Asuka e Lana Contro Naya Jax Shana Basler Per i titoli di coppia Roba che solo a dirlo Mi fa venire La pelle Cioè Una roba assurda Oltre che pelle d'oca Per me è una cosa Che questa fa male Fa male Wrestling Soprattutto quando tu poi Cambi Cambi canale Il giorno E ti riferisco a vedere NXT Dove ci sono donne Straordinarie Dove stanno facendo La fortuna Di un roster Perché se NXT Fa 500 600 mila Telespettatori La maggior parte Del premio Va alle donne Va alle donne Va a Rhea Kendis A Yoshirai A campionista Giustamente Va a Dakota Kai Va a Raquel Vanno a tutte quelle Cioè mentre qui Non so cosa Mi sto ritornando a vedere Stiamo sempre Su SNetwork E questa è una cosa assurda Stiamo sempre Su SNetwork E io lo trovo Imbarazzante Imbarazzante Sto prodotto Che mi stanno offendo Mi dispiace tantissimo Mi dispiace davvero tanto Poco più tardi Sempre a Raw Ci siamo ritrovati A guardare Dana Brooke Contro Mia Yim Con la maschera Che poi la perde Anche la maschera Oddio Ho fatto sembrato Sta cosa Come se fosse Però Insomma Per dirti questo Dana Brooke Mi ha battuto Mia Yim Che si chiama Reckoning Qualcosa del genere Una cosa Me l'ha battuta Con Roll Up E Mustafa Lee Ha fatto un segmento Che non c'entra assolutamente Nulla A quella retribuccia Perché se Mustafa Lee Dice che Non accetta delusioni Doveva dare Delle pizze in faccia Anche agli altri Cioè Il fatto che Mustafa Lee Ci abbia fatto capire Se è deluso Da questa mia Yim Non serve È una cosa Che fa contro Tutto quanto La gestione Della retribuccia Perché È una staple Che ha debuttato Con 2-3 sconfitte E lì non si era incazzato Cioè Cosa serve Tutta sta roba qua Non lo so Non lo so Ragazzi Mi dispiace davvero tanto Commentare questa roba qua Davvero Col cuore e male Mi dispiace davvero Tanto perché Rovina il commento Di lo E potreste Qua aggiungere 2.000 cose Ma preferisco Andare avanti Andiamo avanti Parliamo del promo Di New Day Qua possiamo stare Un po' più sereni Anche se Secondo me C'è bisogno Di un altro Da team Che si inserisce In un contesto Importante Come New Day Art Business Secondo me Serve Ora più che mai Un tag team Cazzuto Che si mette In mezzo A stilogio Se no Rischiano di diventare Pesanti Nonostante ci offrono Qualcosa di importante Perché i New Day Che vanno a fare Vanno a deridere L'Art Business Vanno a fare Anche con una serie Di replay Che mi ha strappato Un sorriso Perché le animazioni Che facevano All'interno del ring Kofi e Xavier Era qualcosa Di geniale Va bene questo Però giustamente Poi arriva L'Art Business E lì Ci mette Una grande Un altro grandissimo Promo Secondo me Di Cedric Alexander Che con tutti i discorsi Andando face to face Con Xavier Andando face to face Con Xavier Dicendo io qualcosa Che si è andato A rilacciare A quello che vi ho detto Settimana scorsa Perché Cedric Che cosa ha detto A Xavier Ha detto Io non sono scelto A Benjamin Io sono qui E ti posso battere Quando è come voglio Cioè Questo mi è sembrato Un qualcosa Un materiale importante Che potrebbe far vacillare L'Art Business Anche a discorso A quello che ho detto Settimana scorsa Però Occhio Che si va a rilacciare Tutto quanto Qua Cedric Alexander Una volta ha detto Quella frase Sfida apertamente Xavier Fanno un single match Secondo me Davvero Molto molto bello E vi devo dire La mia Il fatto che Cedric Alexander Abbia battuto In maniera Più che pulita Il buon Xavier Contanto di Lumberjack Che è la finisher Di Cedric Mi ha fatto subito Riflettere Ho detto È tornato Una Cedric Alexander Davvero bello Cazzuto Perché Già settimana scorsa Secondo me Ha fatto un gran promo Anche questa settimana Si è ripetuto Buonissima prestazione Però Cedric che fa Vince La contente 1,2,3 Scappa subito Non è che va A festeggiare Con l'Art Business No Si allontana E apre altri scenari Scenari che mi portano Semplicemente A dirvi questo Mi auguro Che non vogliono Separare Cedric Dall'Art Business Ma Attualmente È poca roba A questa roba Vi sto dicendo Perché mi sembra Anche folle L'Art Business È una stable Che a Ro Sta funzionando Davvero bene Ma che dico Più che bene L'Art Business È roba Secondo me Interessante È una delle cose Che è riuscita meglio Negli ultimi mesi A Ro Questo è poco Ma sicuro Mi auguro Che ci sia un percorso Di altro importante E per quanto riguarda La Dac Team Division Ragazzi Serve un altro Dac Team A Ro Importante Importante Che si inserisca Da questi due Perché secondo me Potrebbe essere Un buon inizio Per far Rivitalizzare Una Dac Team Division Scusate Di Ro Un po' Sottotono Da diversi mesi A questa parte New Day E Art Business Hanno fatto la parte Allora Nelle ultime settimane Mi auguro Che ora Sia il turno Di qualcun altro Passiamo oltre E parliamo Del match Della serata Uno dei più bei match Che io ho visto Ultimamente Ro Smackdown Ovvero il Triple Threat Con No Con AJ Styles Super protagonista Che è andato a affrontare Riddle E Keith Lee Ma ragazzi Dei ritmi Allucinanti Io ho notato Styles Stare a passo Di quei due Con davvero Una facilità incredibile Styles comunque C'ha una certa età E nonostante questo Styles che fino a qualche giorno fa Si complimentava Con Kazarian Non l'elite Per i ritmi Che riusciva Ma pure Styles Si è comportato Benissimo Cioè forse Secondo me Styles Ancora Non si riconosce Come uno dei miglior Performer Non degli ultimi tempi Ma di sempre Styles È stato al ritmo Di Riddle E Keith Lee Che si riconoscono Benissimo E se vedeva Ragazzi Riddle E Keith Lee Si sono scambiate Le famose botte Da orbi Ci hanno fatto Godi tantissimo Quei loro scambi Perché erano Di un livello Impressionante Con una cattiveria Giusta Nonostante siano amici Sta cosa Lo marcava anche Il tavolo di commento L'hanno marcato 3000 volte Keith Lee e Riddle Sono grandissimi amici Ma qua c'è in palio E questo cambia tutto Ogni volta Però a me è piaciuto Anche come si è messo Styles A giocare con i ritmi loro Con i German Super Il forum Che lo faceva in tutti i modi Styles C'era Keith Lee Che faceva powerbomb A destra e sinistra C'era Riddle Che si lanciava A un certo punto A destra e sinistra Sul corpo di Styles E lo stesso Keith Lee Robba davvero allucinante Studiata benissimo Mi è piaciuto tantissimo Il loro match Cioè me lo sono goduto Probabilmente con il miglior Triple Threat Che io ho visto A Rosemary D'anno negli ultimi tempi Questo è poco ma assicuro Mi ha intrattenuto Tanto 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 Non era secondo me Così facile come sembra Però Oh gli hanno dato il giusto minutaggio Si sono studiati Il giusto spot E' stato utile anche Jordan Lì a bordo ring Che ha aiutato Styles A tornare su level Per poi eseguire quella manovra Se non sbaglio Su Keith Lee Tutto studiato molto molto bene Ognuno sapeva cosa fare Per dare anche chance All'altro di brillare Perché una volta il brillato Poi toccava a quell'altro Quindi L'ho trovato tutto Quanto fighissimo Vince Agee Styles E quindi diventa Il nuovo number one contender Al titolo Di Drew McIntyre Styles è andato A fare la fenomenal forum A Matt Riddle Che aveva fatto poco prima Un Come si chiama Final Flash La ginocchiata A Keith Lee Che aveva messo Definitivamente KO Ne ha approfittato Di Styles Che va a colpire Riddle Con la fenomenal forum Uno due tre Styles vince E poco dopo Fa un segmento Con Demitz Incredibile Styles Con quel segmento Nel backstage Ha completamente Azzerato Demitz E ci hanno fatto capire Ulteriormente Quanto possa essere Pericoloso Demitz Col titolo WWE Non che ci volesse un genio Ma quando Styles Mi va a dire A Demitz Sì sì io ti aiuterò Ti farò diventare Nuovo campione WWE Perché preferisco Affrontare più Uno come te Che rispetto a uno Come me Keith Cioè roba Che fila Fila benissimo Roba che proprio Dici cazzarola Questa è nella studio No roba che Semplicemente Ci sta Perché Demitz Attuale Negli ultimi sei mesi Ha vinto due match Negli ultimi sei mesi Demitz ha vinto due match Ha vinto due match Ed è normale Che Styles Ti va a fare questa cosa E ti distrugge un personaggio Come Demitz Che non ha manco replicato Cioè non è il Demitz Cazzuto di una volta È un Demitz Che sta sito Accusa e basta E a me dispiace Io continuo a dire A me dispiace La gestione di Demitz Mr. Money in the Bank È una cosa distastrosa Se questo diventa Campione WWE Faccio un casino E mi dispiace Perché sono un grandissimo Fan di Demitz Lo capirei anche Dal mio nick Però non può diventare Campione WWE E il discapito Desta gente qua Poi sto in mezzo A Randy Orton E' già stai Cazzarola Cioè Tutto rispetto E' un Demitz che doveva essere gestito In maniera stradiversa Stradiversa Roba davvero incredibile Passiamo oltre E parliamo Di un segmento Che accade nel backstage Torna protagonista Matt Riddle Soltanto Riddle Perché se lo chiami Matt Ti spacca Torna protagonista Riddle Co-MVP I due vanno a fare Una discussione nel backstage E a un certo punto Arriva Bobby Lashley Ad attaccare Matt Riddle Con la sua Full Nelson E questa cosa Mi ha fatto molto riflettere Perché settimana scorsa Vi facevo tutti i discorsi Con Keith Lee E Bobby Lashley Occhio Perché sta situazione qua Potrebbe portare Un altro Triple Threat Sempre con Placolonista Riddle Kit Lee E Bobby Lashley E sta roba qua Al titolo dei Stati Uniti Non è che fa bene Molto di più Una cosa straordinaria Solo a pensarla Mi auguro Che lo facciano Con un percorso logico Si può avere Un Triple Threat Sì da paura Sfruttando anche Una stipulazione Mi piacerebbe tantissimo Vedere Bobby Lashley Contro Keith Lee Contro Riddle So curioso di vedere Anche Bobby Lashley In mezzo a sti due fuochi Stiles si è comportato Benissimo Perché è uno dei migliori Al mondo Da anni Bobby Lashley Sarei molto curioso Spero che faccia Uno studio Altreth Vario del titolo dei Stati Uniti Che poi Alzerebbe ancora di più Il livello di questo Di questo titolo Mi auguro che sia così Passiamo al Main Event Con Drew Che però poco prima L'aveva proceduto Con un promo E lo scorsese Ci ha fatto capire Di essere Ancora leggermente Arrabbiato Per la sconfitta Su Vario Series I migliori discorsi Le va a fare Con No anzi Per Jey Uso E Drew McIntyre E vi devo dire Che mi hanno fatto Molto riflettere Mi hanno fatto Molto riflettere Perché se Drew McIntyre Si ritrovasse Senza titolo Alla Royal Rumble Sarebbe interessante Vedere poi Un po' di cose Sarebbe interessante Un po' di cose Però Drew McIntyre Ecco mi ha fatto Molto sorridere Con questo promo Sarebbe lo straordinario Drew Che poi Ha parlato anche Di Stiles Namba Contender Ci ha annunciato Che il loro match A TLC Sarà fenomenale Ma ragazzi Non solo Stiles è fenomenale Anche Drew Con questa frescialina Con questa è Perché quello Si chiama fenomenale Bellissimo Anche Drew Ci ha fatto notare E poi ci siamo goduti Questo 2 contro 2 Drew McIntyre Scimus Contro Meads e Morris Che è durato Relativamente poco 8 minuti Se non sbaglio E non è che sia stato Di chissà quale livello Diciamoci la verità Perché contava Più che altro Il post match Con Stiles Che ha interrotto La contesa Andando a Colpire Drew McIntyre Con la fenomenale Fora De Meads Subito un pazzo Io ho detto Ma che cosa fai Non mi dovevi aiutare Di qua di là Stiles ha detto Questo è tutto quanto Fa tutto parte Del nostro piano Mentre Scimus Era stato buttato Oltre le balaustre Quindi Scimus L'hanno messo KO E quindi Hanno provato A attuare Il piano di Age Styles Che quindi Ha fatto La fenomenale Fora A Drew McIntyre Poi è toccato Anche a John Morrison Con la Starship Pain Sempre sul corpo Di Drew McIntyre Che stesse settimane Sta piante tutto De più Non contento De Meads Va a fare anche La sua skull crushing Ho detto Cazzo Se non incassa qua Non lo fa più Cioè Qua De Meads Già la seconda volta In giro di settimane Che può diventare Campione d'abito Lui Ma te pare Che diventa Campione Per una puntata De Raw Così Davvero Nude Senza E ragazzi Ho detto Ma chissà Perché qua Non sta succedendo nulla De Meads Va Effettivamente A pensare Di incassare Dopo lo stesso Styles L'ha incentivato Rinviene Drew McIntyre Così All on hour Cioè Se questo mi rinviene Così Dopo 3 finish Non so davvero Come è posto De Meads Manco pensare Diventa campione Davide Forse lo mette Sotto con la macchina Chi lo sa Drew McIntyre Rinviene Fa Mi sembra La Claymore Kick A John Morrison Ora mi sono perso Quello che fa De Meads Si ritrova poi Face to face Con Styles Che viene Portato via Da Osmos Omos Come cazzalo Si chiama Il suo manager Un cristiano Altissimo E Io l'ho detto Bel finale Bel finale Ma se De Meads Non è diventato Campione Manco qui Arrivederci Detto questo Fateci sapere la vostra Fateci Fatemi sapere la vostra Qui sotto nei commenti Ci vediamo domani sera Per la live reaction Di All Elite Wrestling Dynamite Un puntadone clamoroso Non mancate Che sarò anche In compagnia di Peonia Domani c'è il titolo Massimo Un palio Domani Puntadone clamorosa Spolliciate Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Avete ancora fatto ragazzuoli Dammi da tutto Too sweet Qua Too sweet